Una proposta di legge regionale per combattere l'illegalità negli alloggi popolari. Lei, consigliere Pettinari, è il primo firmatario di questa proposta di legge e auspica una posizione condivisa anche da parte degli altri partiti. Sì, una sfida che lanciamo a centrodestra e centrosinistra. Purtroppo loro sono stati sempre quelli che hanno approvato le sanatorie per gli occupanti abusivi, mentre noi vogliamo sbatterli fuori dalle case popolari. Allora, la nostra legge prevede che chi ha commesso reati e quindi ha subito condanne passate in giudicato per reati gravissimi, quale l'usura, lo spaccio di droga, l'estorsione, il sfruttamento della prostituzione, detenzione di armi, nei cinque anni precedenti la domanda di assegnazione di un alloggio popolare non può partecipare alla graduatoria. Chi è già assegnatario degli alloggi popolari e commette appunto e subisce una condanna definitiva per reati gravi che abbiamo appena detto, deve essere sfrattato immediatamente. Prevedere che non solo l'alloggio, chi adibisce l'alloggio ad attività illecite, ma anche chi adibisce le zone limitrofe e le pertinenze dell'alloggio ad attività illecite, deve essere sfrattato, dichiarato decaduto. Di vietare soprattutto l'attivazione di contratti delle forniture di energia elettrica, gas e acqua agli occupanti abusivi, a chi occupa con la forza e con la violenza. Ecco, questa norma ristabilirebbe la legalità all'interno degli alloggi popolari nelle nostre periferive e soprattutto riporterebbe una condizione di pace sociale. Non solo, noi vogliamo anche istituire e creare una sorta di laboratori degli arti, dei mestieri, una laboratori di formazione professionale per tutti quei ragazzi disoccupati, meno giovani disoccupati delle periferie e quelli che abbandonano la scuola. Ci sono tante associazioni che operano in tal senso, vogliamo creare anche una sinergia con queste associazioni.